Torna vai col CAI, l'esperienza di alpinismo giovanile organizzata dal CAI di Castione della Presolana. Dove si va quest'anno? Allora quest'anno si va in Val d'Aosta. In Val d'Aosta è una ragione che a noi insieme a Davide piace tantissimo. Dopo un'attenta ricerca, anche perché trovare un rifuso che può ospitare 55 persone, non è semplice. Di conseguenza quest'anno abbiamo optato per il rifuso Bezzi. Siamo andati in Avascoperta io e lui, siccome non eravamo mai andati in questo rifuso, siamo saliti con gli sci, c'era ancora parecchia neve e abbiamo trovato veramente un ambiente, un rifuso confortevole. Sembra veramente un hotel ad alta montagna, lì siamo oltre i 2200 metri. e il paesaggio, diciamo, a dire stupendo, dico poco perché ghiacciai sovrastante il rifuso, persino un laghetto di fronte che era ancora abbastanza coperto dalla neve. E quindi tutto questo fa ben sperare a una bellissima settimana con i ragazzi. I posti disponibili ce ne sono ancora pochi, grazie a Dio devo dire che c'è stata subito una grande affluenza, grazie anche al fatto che noi abbiamo avuto una difficoltà, come presumo tutti i CAI, ad avere una ripartenza, diciamo, col botto e il Comune di Castione concedendo questo fondo che già dall'anno scorso ci ha finanziato con un buono da 5000 euro, quest'anno lo ripeterà e di conseguenza questo consente sì alle famiglie di abbassare i prezzi per i ragazzi e noi siamo felicissimi per questo e spero veramente che sia una settimana, come è stato l'anno scorso, fantastica. Ricordiamo il programma di questa edizione 2023. Allora, la partenza sarà domenica 26 giugno e sarà un'intera settimana, come diceva prima Michele, in Val d'Aosta e torneremo sabato 1 luglio. Durante la settimana chiaramente verranno proposte attività di escursionismo in montagna adatte ai ragazzi, dalla prima fascia alla terza fascia, quindi dalla terza elementare fino all'adolescenza, verso 18 anni. Le escursioni saranno comunque sempre bilanciate per poter uscire tutti in gruppo, in compagnia e per conoscere la Val d'Aosta. Ricordiamo infine che cosa bisogna fare per le iscrizioni. Allora, per le iscrizioni chiaramente è necessario essere iscritti al CAI, quindi nel caso vi chiediamo di contattarci per vedere cosa è necessario per le iscrizioni e poi chiaramente bisogna presentare il modulo che è disponibile sul nostro sito, comunque contattandoci direttamente tramite i nostri canali social. Ricordiamo che l'iscrizione per i residenti, per i ragazzi residenti nel Comune di Castiglione da Pesolana, grazie al bonus che dà il Comune di Castiglione da Pesolana, è di 250 euro a ragazzo. Mentre per i ragazzi non residenti nel Comune l'iscrizione è di 400 euro. Per i fratelli c'è uno sconto di 30 euro per il secondo, il terzo e il quarto fratello.